buongiorno a tutti è un piacere avere oggi come ospite Gianluca Randazzo Head of Sustainability mi si lega la lingua di Banca Mediolanum una banca molto presente sul nostro territorio una banca molto innovativa una banca cresciuta intorno a te possiamo dire giusto Gianluca giustissimo giustissimo proprio nata nata in questo modo da questa consapevolezza la consapevolezza che che la persona non soltanto il cliente la persona è determinante perché si possa insomma crescere insieme questo guarda su questo mi trovi assolutamente d'accordo anche perché essendo io insegnando io marketing etico all'Università Europea di Roma a fianco delle quattro P tradizionali del marketing del marketing etico c'è una grande P nel mezzo che sta per people per persone e quindi mi trovi assolutamente d'accordo su questo tipo di approccio nei confronti del mercato in generale e andiamo proprio a parlare di approccio sui clienti veniamo da due anni di pandemia adesso se sembra dio volendo che ne siamo praticamente quasi usciti ma come siamo usciti da da quella da quel tunnel lì siamo entrati in un altro tunnel che è quello di una guerra praticamente europea anche se sembra circoscritta all'ucraina in questo momento qui in questa situazione di grande cambiamento rispetto a quello che era tre anni fa il mondo economico voi come vi approcciate guarda all'inizio l'abbiamo detto all'inizio noi abbiamo questa consapevolezza derivante proprio dalla dalla scelta del fondatore di Mediolanum della centralità della persona noi diciamo che siamo una banca di persone per le persone e quindi in con questa chiarezza che si deve esprimere poi nei comportamenti il nostro modello alla fine non è cambiato anzi si valore si è valorizzato maggiormente no perché in certi momenti di di crisi di difficoltà persone vicine a te il modello che ti che ci spinge a voler essere vicini ai clienti a prescindere dalla presenza territoriale di filiali ma proprio perché ci sono persone sul territorio i nostri family banker in realtà i momenti pure di crisi come questa noi riusciamo comunque ad emergere ad essere efficaci e utili perché questo è il nostro obiettivo essere efficaci e utili nei confronti di chi ci sceglie di chi ci dà fiducia in questo modo poi insomma lo vediamo nel tempo questo modello poi premia chi ci sceglie perché la nostra il nostro impegno poi ci aiutano nel raggiungere gli obiettivi che abbiamo come come risparmiatori ma io penso che il vostro modello sia un modello che in questo momento è veramente il massimo dell'attualità perché prima andavamo in un mondo che era prettamente fisico si parlava tanto di internet sarà l'anno di internet sarà l'anno di internet e poi non era mai l'anno pieno di internet poi la pandemia chiudendoci in casa ci ha portato ad utilizzare degli strumenti remoti di comunicazione adesso siamo abituati però ci piace anche il contatto fisico quindi la vostra unione di fisicità con sistemi a distanza è un modello che già in se stesso racchiude il nuovo futuro è detto benissimo di nuovo è sei il modello diventa coerente con la con la visione la scelta strategica nei comportamenti del day by day e l'abbiamo capito come nel momento in cui l'abbiamo capito sempre no perché in qualunque momento di difficoltà siamo stati capaci di adattare e di trovare soluzioni nuove nel nella relazione sempre in linea con la visione che era quella di essere vicini alle persone quindi certamente è arrivato il lockdown che ci ha chiuso in casa la tecnologia però ha dimostrato di consentirci sebbene in una forma diversa di essere vicini e quindi le la vicinanza si è manifestata grazie al computer grazie al telefono la vicinanza ci deve essere sempre stata chiaro e tutti quanti preferiamo una vicinanza fisica però laddove non è possibile anzi a volte abbiamo anche imparato che certe soluzioni certi incontri diventano addirittura più efficaci perché più veloci perché più insomma perché non richiedono un'organizzazione di appuntamenti abbiamo imparato che anche se il mondo diventa torna ad avere una relazione fisica comunque lo porto quello che abbiamo imparato non lo dobbiamo buttare via anzi deve essere valorizzato dobbiamo imparare e valorizzare tutto quello che impariamo mi sembra che voi continuate veramente a essere fermi nelle vostre strategie e nei vostri nella vostra mission dico bene Gianluca certamente la nostra strategia è tracciata no il nostro comportamento che si basa con un'identità forte che vuole mettere al centro la persona e un sistema valoriale cinque valori che ci guidano ci orientano poi deve trovare trovare efficacia nel comportamento ora la sostenibilità in tutto questo è parte di tutto questo che in realtà la sostenibilità è un modo di comportarsi è la consapevolezza quantomeno per noi di voler generare valore nei confronti degli stakeholder abbiamo identificato quali sono i nostri stakeholder sappiamo dell'importanza che ha il generare valore nei confronti di tutti perché tutto questo genera valore anche per noi e quindi in questo senso abbiamo identificato quattro responsabilità che ci aiutano proprio a guidarci la responsabilità economica sappiamo che dobbiamo raggiungere i risultati no evidentemente in modo attento e responsabile ma i risultati economici l'utile l'essere solidi gli esseri liquidi ci consentono di essere una istituzione di riferimento di essere affidabili e ci consentono anche di poter pagare i fornitori i collaboratori e poter fare investimenti ed è molto evidentemente molto importante poi c'è la responsabilità verso i clienti se va a san dire che un'azienda esiste perché ci sono clienti che la scelgono e per noi questo è molto chiaro e in questa relazione con i clienti noi vogliamo far crescere la positività nella loro vita e quindi sviluppiamo servizi e prodotti sia ovviamente nell'ambito della sostenibilità quindi con un'attenzione forte integrando le valutazioni ISG quindi environment social governance nella nostra offerta prodotti ma non solo anche la produzione dei prodotti e servizi la carta no stiamo eliminando stiamo dematerializzando completamente tutti i contratti laddove ovviamente è possibile per far sì che questa opportunità si colga e quindi prodotti servizi ma anche responsabilità ai collaboratori qualche in qualche azienda si dice che il collaboratore è il primo cliente dell'azienda in qualche modo se ci pensiamo può essere anche comprensibile questa affermazione perché se i collaboratori non danno non credono nell'azienda non sono messi nelle condizioni di offrire il loro miglior modo di servire i clienti i clienti non vengono serviti quindi è difficile e quindi la responsabilità nei collaboratori e parlo di tutela del capitale umano parlo dello sviluppo del capitale umano di attenzione alla diversity di tutte queste tematiche certamente è rilevante e infine ma non per ultimo per importanza la responsabilità verso la collettività e l'ambiente e qua vorrei sottolineare perché non per ultimo perché abbiamo una grandissima e chiara consapevolezza e noi siamo parte della collettività qualunque organizzazione lo è evidentemente il la responsabilità che vogliamo avere come banca banca mediolanum è quella di prenderci cura del contesto in cui viviamo e il contesto contiene tutti anche chi ha bisogno di essere aiutato e quindi responsabilità verso la collettività e l'ambiente evidentemente vale lo stesso discorso è proprio in questo senso aiutare con l'inclusione finanziaria aiutare con l'educazione finanziaria aiutare con la filantropia aiutare diminuendo il più possibile gli impatti ambientali e intervenendo con compensazione laddove è possibile il tutto questo per far comprendere che c'è un presidio molto forte di quello che sta accadendo e questo fa sì che se anche il contesto cambia l'hai fatto hai fatto cenno poco fa no alla guerra e quant'altro noi però siamo forti e saldi su una strategia che ci consente di guidare le nostre azioni guarda se tu mi autorizzi io manderò questa intervista la proietterò ai miei studenti all'università nel corso di una prossima lezione perché tu racconti proprio com'è il comportamento etico di un'azienda e io se tu mi autorizzi io lo manderò grazie ti ringrazio perché guarda eh sai un conto è se lo dice il professore un conto se lo dice un importante esponente di un importante banca che racconta veramente che quella è la strategia che stanno seguendo l'impatto ecco stai facendo un comportamento etico anche in questo perché stai divulgando a degli studenti il modo di farli crescere anche loro in un futuro operare in questo modo e allora a questo punto qui però ti chiedo perché i miei studenti ogni tanto me lo chiedono e questo impatto l'impatto dell'ISG quindi questo essere etici questo comportamento avrà un costo nell'azienda allora su questo intanto visto che parlo anche degli studenti ovviamente e comunque voglio dire due cose importanti la prima che per me sono importanti la prima è che noi adottiamo questi comportamenti sostenibili che vogliono essere sostenibili secondo la nostra strategia e lo dico perché è molto importante oggi stare attenti sempre in questo tema di ISG al rischio greenwashing brandwashing eh washing come vogliamo chiamarlo perché da due possibilità uno evidentemente questa tematica dell'ISG è diventato una moda un trend ed è chiaro che a volte qualcuno possa farsi prendere la mano ed è gravissimo gravissimo perché perché qua non si sbaglia a fare un prodotto ma si sbaglia a incarnare i valori di un'azienda e allora bisogna stare molto attenti chiaramente è molto eh è ben chiaro come evitare il dolo no come evitare che eh si caschi nel fare eh di avere comportamenti irresponsabili però dall'altro lato c'è anche il tema il fatto che il tema ISG sta si sta complicando dal punto di vista normativo tecnico eh la disponibilità delle informazioni per poter comprendere quale società è davvero sostenibile o quale società si sta impegnando in questa direzione che risultati ha ottenuto ancora deve crescere bisogna avere pazienza in questo senso perché è davvero è complesso un mondo nuovo e deve deve essere disponibile a offrire informazioni informazioni che dovranno essere sempre più puntuali e quindi anche in questo senso a volte uno può pensare di avere a che fare con un'azienda sostenibile l'azienda può pensare di agire comportamenti sostenibili poi magari ancora deve migliorare quindi in questo senso è importante essere consapevoli in merito al costo ora io credo che certamente ci sono dei costi ma sono costi legati all'evoluzione in termini di comportamenti e conoscenze da un lato perché chiaramente è un mondo nuovo con il quale ci si può confrontare non è soltanto il comportamento del buon padre di famiglia ma adesso è diventato anche molto tecnico e poi c'è un costo di adeguamento ma non dell'azienda dell'infrastruttura tutta di tutto il sistema proprio per quello che dicevo poco fa no per rendere disponibile tutte le informazioni i dati per comprendere quanto un'azienda per esempio genera l'impatto ambientale vi faccio l'esempio pratico no sì io ho un impatto ambientale diretto e un impatto ambientale indiretto queste informazioni devo rendere disponibile altrimenti quando valuto l'azienda e ne voglio valutare l'impatto ambientale se non ci sono queste informazioni posso intuire che in funzione del settore merceologico in cui opera potrebbe avere quell'impatto però non è detto che se l'opera nell'energia stia lavorando sull'energia rinnovabili piuttosto che sul fossile no quindi e se anche è fossile come magari sta facendo degli importanti progetti di trasformazione quindi è molto importante avere pazienza costanza impegno determinazione severità rispetto a queste tematiche il costo in parte c'è ma è un costo non così come posso dire anche per fare le altre attività anche per fare le nuove progettualità comunque ci sono costi ecco certi costi di tempo questi economici bisogna capire che questo è un investimento per il nostro futuro sia per posizionamento di mercato sia proprio per posizionamento di coerenza rispetto a un futuro possibile è quello che dico sempre anch'io è vero ci sono dei costi ma in realtà questi costi servono a garantire una stabilità nel medio lungo periodo dell'azienda che li sta sostenendo di più rispetto a chi lo sostiene e comunque per le nuove progettualità ci sono sempre costi bisogna fare in modo che questi costi siano costi che divengano investimenti per migliorare il proprio posizionamento nel mercato per far comprendere come in realtà si può interagire quindi definire dei target definire l'efficacia e raccontare l'efficacia delle proprie azioni comunque comunque tu sei proprio in questo momento impegnato al massimo visto l'attività devo dire che è un periodo bellissimo io faccio ho la fortuna di fare il lavoro che mi appassiona anche per questioni mie personali e quindi sono davvero sì non mi non mi annoio ma sono felicissimo di non annoiarmi per certi versi mi piacerebbe annoiarmi perché vorrebbe dire che ci troviamo in condizioni ambientali sociali migliori però insomma la situazione purtroppo la leggiamo è critica e ognuno di noi per la responsabilità che riveste nei suoi ruoli della vita quindi padre piuttosto che marito piuttosto che amico piuttosto che manager di un'azienda deve impegnarsi al massimo per migliorare le condizioni il prossimo ed è già luca io ti ringrazio delle parole chiede che hai detto io non ti posso apprezzare come come marito ma come manager ti apprezzo veramente tanto le idee chiare e ci hai spiegato in maniera molto semplice ma molto efficace il problema degli esgi e di come si può affrontare come può diventare questa una strategia commerciale non solo un costo e questo è veramente l'approccio secondo me che bisogna avere io ti ringrazio ringrazio anche banca mediolanum che che ti ha dato la possibilità di partecipare e grazie a voi grazie a voi grazie per gioco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti